Non schippate, 20 secondi e vedrete la macchina nuova, il momento è finalmente giunto. Macchina nuova, abbiamo venduto il Subaru, ed è stato un affare della madonna, poi vi racconterò magari più avanti. E la macchina nuova, zio Ronnie, c'è un perché, c'è un grande perché, dobbiamo contestualizzare. Prima di questo c'è da dirvi di iscrivervi al canale, perché tantissimi di voi non guardano i video e la cosa mi ulta tantissimo, perché più del 40% non lo faccio. Potrei dire una brutta parola, ma poi... Ecco, esatto, e poi dovrei censurare lui, no? Peccate che ve l'ha sentito. Questa è la nuova arrivata di Sfambi in Auto, zio Ronnie, buongiornissimo! Buongiornissimo, A45S, AMG, Mercedes, 2020, 2000 turbo, 421 cavalli, integrale. No, Ronnie, cosa vuoi dire? Ronnie! La macchina ti ha risvoltinato. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Purtroppo Ronnie è fedele agli giapponesi, poi lui ha avuto uno Subaru, quindi è di parte. Quando l'ho venduta mi ha detto, no, no, perché la stai vendendo? Ma, vi l'ho detto, è stato un bel affare. A prescindere da quello, il Subaru io l'ho comprato come seconda macchina, quando avevo anche il Golf GT. E questa cosa era bellissima perché riuscivo ad utilizzarla come gioco. Però, quando ho venduto la Golf e mi sono ritrovato ad usare solo quella, il problema è stato mantenerla. Mettere la 180. Quindi la verità è che ho cercato una macchina che fosse comoda da utilizzare tutti i giorni, confortevole. Che andasse forte, ma soprattutto una macchina modificabile. Perché non avrebbe avuto senso prendere, per esempio, una Cayman, magari S, una Boxer. Una macchina difficile da modificare. Non parlo di sedili, ma cerchio. Come fai a togliere i cerchi in magnesio a una Porsche? Impossibile. Quindi ho detto, ok, prendiamo l'hottec più potente che c'è sul mercato. Ciao a tutti amici di Spampinauto e Tuning e benvenuti in questo nuovo video. È arrivato il momento di farvela vedere meglio e la descriverò. Adesso ci andiamo a fare un giro con Ronnie e abbiamo scelto un passo di montagna molto carino. Ma la macchina è verde per un determinato motivo. È wrappata. Io l'ho già presa così, da Achilli Milano. La macchina sotto è nera, quindi non vi preoccupate perché tanto arriverà il momento in cui la spellicoleremo. Spero. Per adesso mi piace veramente tanto in questo verde così tanto aggressivo. con cerchi da 19, con dischi davvero enormi, con questo bordo fatto con la stessa pellicola, con il tetto apribile, con lo spoiler dietro, con l'estrattore dietro e con quelli davanti. Questo qui è l'aeropack dell'AMG, perché questa macchina dovete sapere che è praticamente full optional. Ve la faccio vedere dentro perché davvero, davvero, un'opera d'arte, il volante dell'AMG è qualcosa di spaziale. Sia da utilizzare, sia da vedere, veramente bellissima. L'unica roba che purtroppo non ha questa macchina sono gli interni da 4.000 euro in full pelle che AMG vende, ma che questa macchina non ha. Quando entrate vi ritrovate un infotainment così grosso, davvero enorme. Ve lo faccio vedere acceso, ma non so se la telecamera renderà giustizia. Davvero gigante perché parliamo di due schermi da 10 pollici con un sacco di informazioni, un sacco di catà, io non so neanche tutte le cose che ha perché veramente sono troppe. Sensori di corsia, sedili riscaldabili, tutto elettrico, 2.000 impianto, surround, burmaster con 18.000 casse, nonni, ma quanto serve dire tutte queste cose? Niente, dobbiamo togliere tutto. Manettino Dynamic con tutte le modalità di guida, ovviamente, abbiamo la scivoloso, che quella è veramente molto utile, no, proprio no, individual comfort, sport, sport plus, race, e poi abbiamo una hit esagerata, drift mode, eccola lì. Cioè al momento non è disponibile perché non è in marcia. Esatto, perché non è in marcia, però la drift mode è veramente una hit esagerata perché ripartisce la coppia sulla sale posteriore per l'80%, la macchina diventa praticamente un posteriore, ho presunto tale, rimane sempre integrale, quindi c'è molto controllo sulle orate anteriore, questo è un bene, però c'è la possibilità di farci i traversi e questa cosa la testeremo in un video più avanti. È davvero figa, ragazzi, ha una presenza allucinante, ha una presenza davvero allucinante. Volevo una macchina... Abbiamo fatto partire la registrazione da qui per un motivo, perché siamo sul lago di Como, lo avete capito, ed è davvero troppo bello per non farvelo vedere. Guardate, che meraviglia. Amgea 45S, questa qui è del 2020, 18.000 km, unico proprietario. Quando l'ho trovata, devo essere sincero, la prima cosa che ho detto è stata Madonna, troppo potente sto colore, forse troppo potente sto colore. Un po' troppo. Un po' troppo, Ronny. 2.000 turbo, ma puoi essere che un 2.000 turbo arriva a 421, che è follia. E il downsizing che stanno facendo è pazzesco. È assurdo. E io stesso, quando ho saputo di questa macchina, nel momento in cui è uscita, cioè nel 2019, ho detto, ma secondo me è veramente eccessivo. Eppure, ragazzi, l'ho vista questa macchina nello specifico, ho pensato tantissimo che sostituta potesse arrivare al posto del Subaru e alla fine la mia scelta doveva ricadere sull'integrale, perché con il Subaru mi sono trovato troppo bene, al ghiacciodromo mi sono super divertito e questa la portiamo al ghiacciodromo su Alivegno, quindi sulla neve aspettatevelo. E bravo a Michael. Anteriore, le abbiamo scartate. Bisogna sempre essere fuori dal coro. Bravo, mi piace. Guardate l'interno che è figata. Questo qua ve lo devo far vedere con una ripresa dettagliata, è veramente bello, bello, vero. È bella perché la macchina è comodissima. Io la sto utilizzando ormai da circa 200 chilometri e un pieno. È brutta storia, questa macchina consuma un macello, non dico come il Subaru, ma quasi. Chi lo deve avere? Il motore, quattro ruote, l'ABS. Il cambio, magari? Il cambio... Può non averlo. Può non averlo. Può non averlo. A prescindere, voglio divertirmi e voglio anche anticiparvi, prima di farvi vedere un'aperta giusta, anzi, prima l'aperta, che in realtà ho già lo scarico completo a casa. Spoiler atopico! E non sono. E non... Troppo spoil, troppo spoil! Vi dico solo che quando questo video uscirà io avrò già fatto due video in due ufficine diverse e crediamo che saranno alla matta. Allora, partiamo. Siamo finalmente alla base giusta, modalità race. Controlli per adesso ritene. Il cambio lo usiamo manuale. Sei pronto, Zio Ronni? Il limitatore non va preso perché altrimenti il motore taglia forte, ma... Il motore l'ho pagato tutto, lo uso tutto. E lo sfrutto tutto, sì! Eh, cammina bene. Oddio, quando attacca, attacca forte, eh! Velox brutto! No, Velox brutto no! Quello era brutto, eh! Oh, ma tu! Eh, comunque c'è 420 cavalli, eh! Tira tutto! Spazzola anche bene, eh! Eccolo! Salve, app! Oh, il pedale del freno che fa giù, eh! Sì, sì, freno assoluto! Brutto! Mamma mia, ma fino al limitatore tira, eh! Eh, cammina! Spinge... Voglio vederla con lo scarico! Ma è sì che sarà divertente! Hai fatto uno spoiler! Troppo spoiler, troppo spoiler! Voglio vedere una macchina del genere in mano a Ronnie cosa e come finisce! Finirò ancora con Ronnie! Finiamo nel lago! Finiamo nel muro! Ti imitiamo che non c'è spazio, va! Ehi, cosa fai? Schiacci il freno, no? Non ho messo i piedi! Schiacci il freno, Ronnie! Non ho messo i piedi! Stavo andando lungo verso la macchina, Ronnie che allunga... Che bella, scuola guida! Sì, distinto in sopravvivenza! Distinto in sopravvivenza! Tu sai quante volte magari quei clienti mettono giù il gas presto e io tiro sul piede nella speranza che la macchina... Che rallenti, ma non succede un c***o! Ronnie, è arrivato il tuo turno! Bastard! Minchia, già tutto mi sta sbullonando! Stavo il volante! Io ti odio! Devo spostare anche lo specchio! Ti odio per quello, non voglio che guidi le macchine, per quello! Ah! Mi c***o pure! No! Comunque, da di là fa più pressione! Sì, il da guidare è molto semplice, questo volevo dire in realtà! Weeey! Questa strada con il 3 RS l'ho fatta, madonna! Eh, il Velox! Velox cattivo! Beh, abbiamo testato che frena! Zio Ronnie è bello concentrato! Ma è bello e divertito! Ronnie, ma che ti sta piacendo? Dove è un Zio Ronnie? Potravo Zio Ronnie! Ronny! Mamma Zio Ronnie, come sei strozzo! Mamma mia! Che carina che è, oh! Ma via come spazzola! Bello, bello! Stavolta non mi sto spaventando, dai! Arrivati, finalmente! A Casino ho lasciato Ronnie! Dopo aver mangiato e vi dico, questa macchina qui mi ha davvero stupito! Mi piace da morire! Mi ha veramente stregato! A prescindere dalla linea che è elegantissima, ma sportivissima, molto esuberante! Con i profili sotto, quelli cromati, con i cerchi, con i dischi davvero enormi! Una pinza esagerata! Lo spoiler, l'aeropack! Ovviamente i fanali dietro sono oscurati, tutto l'estrattore, i quattro scariche! Veramente bella! Di questo colore poi mi piace tanto perché è ignorante, si fa vedere! È molto molto luminoso perché è un mix tra un verde e un lime, davvero molto bello! Guardate la differenza tra la luce che si riflette al sole e all'ombra! È veramente molto bella! Quindi mi piace tanto e mi piace il fatto soprattutto che sotto sia nera, che non sia verniciata di questo colore! Sono curiosissimo oltretutto di provare la modalità drift! La vedrete in un video, magari con Alessia, vedremo! Ci divertiremo! Ma soprattutto sono felice di dirvi, ve l'ho già detto, di ridirvi che stanno arrivando un po' di modifiche! Tra cui lo scarico! Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate! Questa cattivona verde ha bisogno del vostro supporto e anche io! Quindi iscrivetevi al canale perché è davvero fondamentale e lo so che non siete iscritti! Per cui non fatemi arrabbiare! Ditemi cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo in prossimo video! Ciao!